Ciao, sono Sofia Campana, vengo da Colorado, una città si chiama Fort Collins e sono qui quest'anno a realizzare il mio sogno, fare la ginnastica in Italia, perché la ginnastica è bellissima, si può volare, si può diventare forte, come non solo un atleta ma una persona. Io non mi ho mai visto tanto su televisione, per me vedermi sarà un po' strano forse, però non vedo l'ora di rivedere tutta questa vita e tutto questo successo che è successo in quest'anno scorso, perché veramente è stato un anno indimenticabile e devo dire che è successo tanto fare in me una persona più forte, una persona con più sapienza della vita in totale e ci sarà tanto a vedere. Grazie, attivo Zoom, vi saluto, un bacio e non vedo l'ora a far vedere la nostra vita. Ciao, mi chiamo Elisabetta Preziosa, sono una ex ginnastica ormai della Nazionale Italiana e adesso faccio l'allenatrice. All'inizio un po' di formazione, ho fatto i corsi federali, mi mancano due esami a finire il percorso, quindi spero a breve di riuscire a darli e niente, la differenza fondamentale è che sono io che insegno, che cerco di trasmettere quello che ho fatto io. Ovviamente non c'è più la fatica fisica di farlo, però c'è la fatica mentale di cercare di trasmettere veramente quello che hai provato sulla tua pelle. Sicuramente la voglia di perseguire i propri sogni, di lavorare duramente anche superando sacrifici o comunque difficoltà e andare sempre avanti, ma non solo in palestra ma anche nella vita normale. Ciao ragazzi, volevo solo direvi che vi aspetto il 16 marzo alle ore 16 su MTV Canale 8.